Buonasera a tutti, porto i saluti della città di Ancona, a tutti i presenti, a tutte le autorità civili e militari, al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a Sua Eccellenza il Prefetto di Ancona, Darko Pellos, a tutti voi che siete presenti, questo pomeriggio che più di celebrazione, visto il titolo, mi sa di pomeriggio di lavoro e credo che di lavoro ce ne sarà tanto da fare, anche perché credo che questa Regione abbia bisogno veramente di una prospettiva, di una visione, oltre che politica, di persone capaci di intravedere il futuro e devo dire che come sindaco della città capoluogo ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile per fare in modo che il capoluogo di Regione sia a servizio della Regione, sia una città disponibile, aperta a quelle che sono le sfide che il nostro Presidente della Regione sta lanciando da alcuni anni per fare in modo che la Regione non torni ad essere soltanto compatitiva ma anche protagonista su uno scenario nazionale e internazionale. Non vogliamo essere da meno, vogliamo assolutamente essere all'altezza di questa sfida e per questo confidiamo soprattutto con quelli che sono i rapporti istituzionali, non solo di continuità, ma quelli che sono i reali e autentici rapporti istituzionali di lavoro, costruire quello che sarà il futuro di questa Regione da quei prossimi almeno vent'anni. Ed è per questo che come capoluogo, essendo depositari a livello metropolitano delle maggiori infrastrutture di questa Regione, cerchiamo da subito d'accordo soprattutto con i soggetti del territorio. Vedo qui il Presidente dell'autorità portuale Garofalo. Vedo tanti interlocutori per noi strategici con i quali dobbiamo e vogliamo misurarci giorno dopo giorno per garantire a questa Regione non solo lo sviluppo in termini economico, in termini infrastrutturale, ma quello che si decanta tanto sia effettivamente uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che tenga attenzione alle attività economiche di questa Regione, che tenga conto della salute e della sicurezza del cittadino, della qualità della vita del cittadino. Ecco, ponendo in armonia e in equilibrio questi due componenti, solo in questo modo riusciremo veramente ad attuare i nostri piani di strategia futura in termini autentici e in termini competitivi, salvaguardando il singolo, salvaguardando la persona e mettendo in condizione le nostre imprese di lavorare e di essere competitivi a livello internazionale. Ecco, da questo punto di vista il Comune di Ancona c'è, c'è stato in questi ultimi sei mesi perché ha lanciato la propria sfida con la nuova amministrazione, lo farà al fianco del Governo centrale, lo farà al fianco della Regione Marche e al fianco del Governo Acquaroli. Lo faremo in modo convinto, determinato, senza fare sconti, perché è quello in cui crediamo ed è il mandato che i cittadini ci danno giorno dopo giorno. Grazie. Grazie, Daniel Silvetti.